Un solo errore da due punti per Acciara, grande partita in 12 minuti di utilizzo per lui. Anche qui abbiamo visto invece Crispin andare a spalle canestro e Acciara allargarsi da tre punti. Qui Brian invece va dentro e fa un movimento perfetto tecnicamente. Ottavo rimbalzo offensivo per Acciara che ora chiude su Silver Brian, ma non fino in fondo perché è bravissimo. Silver Brian! La squadra di casa, ora nuovo e lungo della squadra in difesa, bastiamo a vedere, è lunga, 7.25, Hicks dal palleggio. Il controllo, linea di fondo, stoppato, contropiede. I cardinali a costruire e Crispin a far la guardia per tirare. Stoppata corretta di Brian.